Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa centodecima puntata del podcast di Marcosbox. Si comincia! Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie delle ultime settimane appena trascorse, notizie nel rende il mondo del software libero e open source. Anche la settimana scorsa, come avete avuto modo di vedere, ho saltato la puntata del podcast semplicemente perché non c'erano abbastanza notizie. Tiratina d'orecchio a me stessa perché ultimamente non sto postando tanta roba. E so che mi scoccio, mi sto scocciando ultimamente di fare le solite notizie. E uscite la versione X del programma, uscite la versione Y del programma, penso che vi annoiate anche voi di queste notizie. Comunque, passiamo alle notizie di queste ultime settimane. Quelle che sono riuscite a postare sul blog, che reputo quelle più interessanti. La prima notizia riguarda delle buone notizie per gli utenti Apple, che molto presto potranno usare anche loro KDLive. Il team di sviluppo del famoso video editor open source per piattaforma Linux, ma anche per piattaforma Windows, infatti è uno dei software che utilizzo anche su Windows per fare piccoli editing di video e anche per convertire le puntate del podcast di Marcosbox per YouTube. Utilizzo KDLive. Bene, il team di sviluppo, dicevo, di KDLive ha annunciato una prima versione sperimentale di KDLive per MacOS. Questa prima build è ancora in sviluppo, fa parte del ramo nightly. E ovviamente ha ancora bisogno di alcuni test prima di poter essere definita ufficialmente stabile. Però la stata oramai è tracciata. E per l'occasione il team di sviluppo di KDLive ha chiesto l'aiuto di tutti quanti gli utenti che hanno un MacOS, un computer equipaggiato, un hardware da gamina, insomma, per poter scaricare la nightly, provarla e segnalare eventuali bug che di sicuro ci saranno, in modo tale da poter perfezionare il rilascio. Ho visto che su Marcosbox ci sono stati alcuni commenti di alcune persone che non hanno presa tanto bene del rilascio di questa versione. Poi ho visto che soprattutto un utente ha cancellato i commenti e questo me ne dispiace perché avevano fatto alcune tirate ad orecchie nei confronti degli sviluppatori di KDLive che mancano con le funzionali. Vabbè, le solite diatribe che nascono all'interno del mondo del software di open source e quant'altro. E mi dispiace che questo utente ha cancellato i commenti, quindi se è all'ascolto non cancellare più i commenti perché è un peccato, perché poi adesso all'interno della discussione dell'articolo mancano uno, due, tre commenti, insomma, c'è quel povero cargo che praticamente sta parlando, parla da solo, sembra che sta parlando da solo e che si risponde da solo ai commenti. Vabbè, appena a tutti i mandiettori, se commentate su Marcosbox evitate di cancellare i commenti. Come ormai di certo saprete, gli sviluppatori di Gimp sono a lavoro da diverso tempo per effettuare il porting alle GTK3 che vedremo in Gimp 3.0. Lo sviluppo procede, seppur a rilento, e ogni tanto spunta fuori qualche minor release che ci avvicina al rilascio di Gimp 3.0. Qualche giorno fa è stata rilasciata la versione 2.99.8 di Gimp. Quali sono le novità di questa minor release che ci avvicina al rilascio di Gimp 3.0? Beh, troviamo la possibilità di effettuare una messa a fuoco della tela cliccando sulla casella degli strumenti, miglioramenti nel supporto dei file come il formato jpeg.xl e il formato psd di Adobe Photoshop, troviamo delle correzioni per quanto riguarda Wayland e macOS, quindi per alcune funzionalità che non funzionavano bene con Wayland e con macOS, abbiamo uno strumento di tipo crone su più livelli che è stato introdotto, abbiamo anche per quanto riguarda gli utenti Windows una copertura più ampia dei dispositivi di input grazie al supporto di Windows Inc e abbiamo dei miglioramenti per gli API, per gli sviluppatori che sviluppano plugin di terza parte, infine abbiamo anche delle correzioni di memory geek. Diciamo che stanno procedendo bene nello sviluppo di Gimp, stanno migliorando tutto, sia l'ottimizzazione del codice che introducendo nuove funzionalità interessanti, quindi speriamo che lo sviluppo prosegua più cereramente nei prossimi mesi, in modo tale da poter mettere finalmente le mani sulla versione 3.0 di Gimp, si spera entro l'anno prossimo, o tutt'al più all'inizio del 2022. Passiamo adesso al mondo dei desktop environment e parliamo di KD e Plasma, quello che è a mio avviso il miglior desktop environment che esiste sulla faccia della Terra. Non sto scherzando, a mio avviso KD e Plasma è quello più complito, che offre il migliore default, soprattutto è quello che è più attento agli utenti e più attento anche all'introduzione di funzionalità aggiuntive che vanno a migliorare veramente l'esperienza utente. Non come altri desktop environment che non si decidono ancora di che morte vogliono morire, che cosa vogliono fare da grandi e quant'altro. Sto parlando con te, Gnome, sì, sto parlando con te. Passiamo alla notizia. Che è successo? È successo che il Nitgram, nel suo consueto post settimanale dedicato allo sviluppo di KDE, ha annunciato l'arrivo del supporto per i lettori di impronte digitali su KDE Plasma 5.24. Grazie a questo gli utenti che dispongono di un lettore di impronte digitali integrato nel laptop o come dispositivo esterno, potranno registrare, annullare, insomma, potendo gestire un'importa digitale in modo da poter far funzionare il lettore di impronte digitali e far funzionare la tutta tonda all'interno del sistema. In che senso? Beh, nel senso che una volta configurata la funzione di autenticazione delle impronte digitali, saremo non solo in grado di accedere utilizzando l'importa digitale, ma anche di autenticarci in applicazioni che richiedono, ad esempio, una password o privilegi di amministratore. Su Marcos Box, su blog, trovate una serie di schermate che fa vedere la funzionalità integrata all'interno delle impostazioni di sistema, come funziona l'abbinamento delle dita e quant'altro. Ed è una funzionalità davvero interessante che ora arrivasse anche sul nostro desktop eventualmente preferito. Perché diciamoci, oramai i lettori di impronte digitali sono all'ordine del giorno su sempre più laptop. Restando a parlare di KDE, c'è una buona notizia per gli utenti che utilizzano Kubuntu 21.10, perché all'interno del PPA Kubuntu Backports è appena arrivato il rilascio di KDE Plasma 5.23. KDE Plasma 5.23 è l'ultima release di KDE Plasma, l'ultima release stabile, che ha introdotto diversi miglioramenti che vanno a migliorare ulteriormente KDE Plasma anche sotto il profilo grafico, perché c'è una svecchiata anche ai temi di sistema. Se volete aggiornare la vostra Kubuntu 21.10, su Marcosbox trovate le istruzioni su come aggiungere il PPA Kubuntu Backports, anche se, credo oramai, se utilizzate il Kubuntu siete abituati anche ad aggiornare, ad aggiungere PPA e quant'altro. Però, se siete l'utente dei primi armi, trovate le istruzioni su come farlo, è un semplice comando da dare all'interno del terminale. Ricordatevi però un accorso, ovviamente, che è questo PPA, il PPA Kubuntu Backports, non contiene soltanto l'ultima versione di KDE Plasma, ma contiene anche le versioni più recenti di KDE Gear, precedentemente noto come KDE Application, quindi le applicazioni che fanno parte del parco di KDE, oltre anche a KDE Frameworks, quindi aggiornerete tutto, non soltanto KDE Plasma. Passiamo adesso a parlare di Microsoft. Microsoft, come ben saprete, negli ultimi tempi ha dichiarato il suo amore a Linux, e Linux, giustamente, si sta mantenendo sull'isue e non crede nell'amore disinteressato di Microsoft. Tuttavia, Microsoft, nel corso degli ultimi tempi, ha fatto diversi passi avanti e ha sviluppato alcuni programmi davvero interessanti, disponibili anche per piattaforma Linux, come ad esempio Visual Studio Code e Microsoft Edge. E parliamo adesso di questi due programmi. Perché? Perché ci sono delle novità interessanti. Iniziamo a parlare di Microsoft Visual Studio Code, sapete bene, è disponibile anche per piattaforma Linux, e adesso sarà utilizzabile anche senza essere installato. Perché? Perché il team di sviluppo di Visual Studio Code ha realizzato una versione web alleggerita di Visual Studio Code che è possibile eseguire direttamente all'interno di un browser web moderno, raggiungendo l'indirizzo WSCode.dev. Quindi, andando su WSCode.dev, avremo una versione leggere di Visual Studio Code che consente di fare parecchie operazioni e ci consente di avere accesso ad alcuni plugin, non tutti, ma vediamo nel dettaglio di che cosa ci consente di fare. Innanzitutto, per poter sfruttare a pieno le funzionalità delle versioni web di Visual Studio Code occorre utilizzare un browser web moderno basato su Chromium, come ad esempio Google Chrome, Microsoft Edge, Vivaldi, Brave e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché i browser basati su Chromium supportano l'API di accesso al file system e consentono alle pagine web di accedere al file system locale. Firefox non supporta l'API del file system locale e quindi di conseguenza saremo limitati nelle funzionalità se siamo utenti di Firefox. Che cosa ci consente di fare principalmente la versione Cloud di Visual Studio Code? Beh, visualizzare e modificare i file locali. Possiamo creare applicazioni HTML, JavaScript, CSS, dato client. Possiamo avere accesso agli strumenti del browser per il debug. Possiamo modificare il nostro codice su macchine meno potenti. Ad esempio, possiamo utilizzarlo sui Chromebook dove, come sapete, non è possibile facilmente installare Visual Studio Code ma possiamo sviluppare anche su, ad esempio, su dispositivi come l'iPad e quant'altro. Quindi è una funzionalità, in più un modo di utilizzare Visual Studio Code che può essere utile a diversi utenti all'ascolto. Magari si trovano su una di queste macchine come il Chromebook, si trovano su un tablet ma si trovano magari su non avere la possibilità di installare fisicamente Visual Studio Code su una determinata macchina e quant'altro. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni sulla versione web di Visual Studio Code e andategli a dare un'occhiata. Per me è una cosa davvero interessante e bisogna, in questo caso, dire grazie a Microsoft. Poco fa vi ho parlato di un altro programma di Microsoft che è disponibile anche per Linux che è interessante. Sto parlando, ovviamente, di Microsoft Edge per Linux la versione per Linux del browser di casa Microsoft che, come sapete, da ormai da diverso tempo è stato ribasato su Chromium. Perché? Che è successo? È successo che nella giornata del 28 ottobre sono stati caricati all'interno dei repository di Microsoft le versioni in formato dev e rpm del ramo stabile di Microsoft Edge per Linux. Quindi, finalmente, Edge per Linux viene rilasciato anche sotto forma di ramo stabile quindi perfettamente allineato con la versione per Windows e significa che il browser è abbastanza maturo per essere utilizzato anche in ambiente Linux. Mentre vi sto parlando, mentre sto registrando questa puntata del podcast il 29 ottobre 2021 attualmente non è stato fatto ancora nessun comunicato ufficiale da parte di Microsoft quindi ipotizzo venga fatto nei prossimi ore e nei prossimi giorni. Se volete provare la versione stabile di Microsoft Edge per Linux su Macrosbox vi ho messo il link direttamente ai repository di Microsoft per scaricare il pacchetto dev e il pacchetto rpm quindi rispettivamente per Debian Ubuntu è per Fedora OpenSUSE mentre se avete già precedentemente installato la versione Dev o la versione Beta di Microsoft Edge per Linux avete già abilitato i loro repository quindi per installare la versione stabile vi basterà cercare il pacchetto all'interno del vostro gestore di repository installato da riga di comando quindi Microsoft Edge Stable e quindi andate a cercare questa chiave di ricerca o installate il pacchetto di conseguenza non ve lo devo insegnare io come si installano i pacchetti comunque fatemi sapere voi che cose pensate io onestamente tra avere un browser in meno e avere un browser di più preferisco avere un browser di più non perché sono masochista quindi provo 50 miliardi di cose non perché sono convinto della bontà di alcune soluzioni proposte da Microsoft si direte voi tanto vale utilizzare Chrome se proprio devo utilizzare un browser proprietario e mi dico io perché comunque ci sono alcune cose di Google che non sono tanto carine Microsoft puzza di meno diciamo così sotto il profilo del browser per ora poi peraltro Microsoft ha iniziato a introdurre alcune funzionalità interessanti all'interno del suo browser a mio end da pensare una su tutte per esempio gli strumenti di editing di pdf che nelle prossime versioni saranno ulteriormente perfezionati delle ottimizzazioni che sono state fatte qua là la possibilità di avere il lettore vocale delle pagine e altre cosine qua là che rendono Edge davvero interessante che lo differenziano da Google Chrome ed altri browser abbassati su Chromium oltretutto poi non so se avete notato se avete mai provato Microsoft Edge sia su Windows che su Linux rispetto a Google Chrome è più è più reattivo e più veloce occupa meno risorse quindi anche sotto questo punto di vista non è malvagio e male non fa specie su se avete macchie non altamente pesate non è che si vede diciamo che questi miglioramenti non è che sono enormi però si riescono a notare questi miglioramenti delle performance vi ripeto provatelo non partite col pregiudizio di Microsoft brutto e cattivo Microsoft è il male assoluto provatelo provate per credere provate prima il browser e poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate se lo ritenete inutile se preferite altro se siete dei duri e puri e fate parte della resistenza di Firefox o se anche voi fate parte della famiglia Chromium provateci fateci un pensierino provatelo fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti comunque devo iniziare a smettere di registrare le puntate a braccio senza editing perché mi rendo conto che ogni tanto quando parto per tanta gente con certi ragionamenti sono anche un po' noioso da sentire e sembro un deficiente vabbè comunque passiamo alla prossima notizia passiamo adesso a commentare le ultime due notizie di questa puntata del podcast di Marcosbox con due eventi uno che c'è già stato ed uno che si terrà nei prossimi giorni parliamo dell'evento che si terrà nei prossimi giorni ovvero l'evento dell'edizione 2021 degli U2 Days Italia si terrà questo evento il prossimo 4-5 novembre 2021 a Bari presso la sala multimediale del Politecnico di Bari che cos'è U2? U2 è un ERP open source che viene utilizzato in diversi ambiti in ambito enterprise per contabilità finanziaria contabilità analitica ma anche gestione del magazzino gestione vendita e acquisti automazione dei processi gestione risorse umane campagne di marketing produzione gestione progetti insomma è un software che viene utilizzato in ambiente re-enterprise ed è davvero comprito è open source e abbiamo la fortuna di avere una community italiana che ha curato anche la traduzione della localizzazione italiana di U2 e quindi fa sempre piacere che ci sia interesse attorno a questi progetti che ci sia una viva comunità sul territorio l'evento si organizzerà dal vivo appunto e per poter accedere a questo evento sarà necessario acquistare un biglietto il biglietto dà diritto all'accesso alla sala riunioni durante le giornate 4 e 5 novembre e però include anche dei coffee break due coffee break un pazzo buffet per ogni giornata e oltre che servire per finanziare per dare un contributo economico anche all'associazione U2 Italia e mettere in contatto i diversi attori che quotano attorno nel mondo U2 Italia su Marcosbox trovate maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti e trovate anche il link al programma delle due giornate se siete a Bari se siete interessati a questo mondo fateci un pezzerino perché è davvero un evento interessante concludiamo questa puntata parlando di un evento che si è appena concluso la scorsa settimana lo scorso 23 ottobre si è svolta l'edizione 2021 del Linux Day la giornata nazionale per il software libero purtroppo come ben saprete anche quest'anno causa la pandemia l'edizione del Linux Day è stata soltanto virtuale soltanto online ci sono stati diversi talk davvero interessanti adesso è possibile rivedere questi talk perché sul sito del Linux Day sono stati caricati tutti quanti gli interventi che si sono susseguiti durante la giornata quindi se vi siete persi il Linux Day 2021 andando nella pagina che vi lascio il link su Marcosbox potete rivedere tutti quanti gli interventi per alcuni questi talk oltre ad essere presenti in video sono presenti anche degli slide di approfondimento quindi grazie agli organizzatori che hanno deciso hanno pubblicato anche in così poco tempo tutti quanti gli interventi che hanno che si sono susseguiti in questa giornata speriamo di poter finalmente riorganizzare eventi dal vivo il prossimo anno e con questa ultima notizia si conclude qui questa centodecima puntata del podcast di Marcosbox vi ricordo come sempre che trovate il podcast di Marcosbox sulle principali piattaforme di streaming quindi mi trovate su Apple Podcasts Google Podcasts Spotify mi trovate su Amazon Music mi trovate anche sulla schiena Rex per il vostro sommario quotidiano vi ricordo anzi vi esorto a seguire il blog e lasciare un commento perché vedo che le visite sono tante al blog però i commenti non sono mai adeguati quindi perché avete problemi lasciare un commento vi fa schifo discus cioè fatemelo capire perché non commentate sulle pagine di Marcosbox lasciate un commento così mi fate anche contento a questo piccolo vecchio pinguino barbuto che che è abituato ai siti di un tempo dove la gente commenta commentate da commentate che non vi costa niente commentare vi ricordo che è disponibile anche il canale YouTube di Marcosbox dove trovate di tanto qualche recensione ma trovate anche le puntate del podcast di Marcosbox che sono ricaricate perché ci sono alcuni utenti a cui piace ascoltare la puntata tramite YouTube vi ricordo poi che potete seguirmi sulle principali piattaforme social e vi ricordo che è presente una pagina su Telegram dove trovate tutte le notizie di Marcosbox è presente la community dei lettori di Marcosbox su Telegram dove potete parlare non soltanto di Linux e di tecnologia in generale ma potete parlare di qualsiasi altra cosa scambiarvi consigli chiedere aiuto e quant'altro vi ricordo tra si che potete supportare il podcast di Marcosbox ma supportare anche il sito Marcosbox grazie al link di applicazione Amazon sapete bene come funziona se acquistate utilizzando il mio link di applicazione Marcosbox Marcos-21 una parte del vostro del vostro acquisto mi sarà restituito da Amazon sotto forma di buono per poter acquistare altro materiale voi non pagate niente in più il prodotto lo pagate sempre lo stesso e Amazon che mi dà la percentuale sui vostri acquisti seppur mi risera però che se sommata mi consente di poter adoperarmi per acquistare materiale aggiuntivo per per mandare avanti anche il sito e che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox sperando che ci sia anche la prossima settimana la puntata perché lo sapete non è un blog a cadenza cioè non è un podcast a cadenza di settimana è un podcast alla cdc